Grave incidente stradale, oggi nel pomeriggio sul viadotto Capodarso, sulla strada statale 626 in territorio di Pietra Persia. Un grosso camion, a quanto pare, avrebbe imbattato con due auto ed è volato dal viadotto finendo sulle sponde del fiume Salso. Sul posto diverse ambulanze, i vigili del fuoco, l'elisoccorso e la polizia stradale per accertare l'esatta dinamica del grave incidente. Per l'autista del camion non c'è stato nulla da fare. I feriti, tra cui una donna, sono stati trasportati al Sandelia di Caltanissetta in gravi condizioni.